Le fiamme, il fumo, il ruogo infernale che distrusse il teatro Petruzzelli nel 91. La notte più triste della storia della cultura di Bari rivive, traboccante di emozioni attraverso gli scatti di Lucaturi, storico fotoreporter barese tra i pimi da correre sul luogo dell'incendio in quella notte agghiacciante. 60, tra le più rappresentative fotografie della distruzione del teatro, diventano la mostra intitolata Petruzzelli e cultura all'interno del Politeama barese. L'inaugurazione è lunedì mattina, 27 ottobre, giorno dell'anniversario del ruogo. La prima notizia che fu data, si sta bruciando il teatro e io non ci credevo, ma vabbè, questo sarà uno scherzo. Poi subito dopo cominciano ad arrivare le notizie, i vigili del fuoco, da via Putignani, mentre arrivavo, già si vedeva il teatro che sembrava il Vesuvio che esplodeva di fuoco. Poi avvicinandomi c'era tanta di quella gente che piangeva, si mettevano mani ai capelli, come se fosse morta una persona. In mostra fino al 10 novembre non solo le immagini del drammatico rogo che ha rappresentato una ferita dolorosa nella storia di Bari, ma anche scatti che ne raccontano la difficile ricostruzione rallentata da bagarre giudiziarie e politiche. Alla fine siamo stati bravi a farlo uguale il teatro ed è veramente un fiore all'occhiello per la città di Bari.